Sequestrano un'operatrice all'interno del suo ufficio per un'ora, pretendendo l'immediata consegna dei pocket money arretrati. Nella tarda mattinata di ieri, sulla linea di emergenza 113, perveniva una richiesta di aiuto da parte di un'operatrice di una comunità d'accoglienza per cittadini stranieri minorenni con sede a Caltanissetta, la quale in forte stato di agitazione riferiva ai poliziotti di essere stata sequestrata da un gruppo di ragazzi stranieri collocati nella struttura, che da circa un'ora si erano asserragliati nel suo ufficio impedendole di uscire. Due pattuglie della sezione volanti si recavano immediatamente sul posto, contattando un operatore del centro, il quale riferiva di non poter aprire il cancello principale, in quanto il telecomando era stato sottratto dal gruppo di ragazzi asserragliati dentro la struttura. Gli agenti riuscivano comunque a fare accesso ad un cancello secondario, portandosi nella stanza dell'operatrice sequestrata. Una volta fatta eruzione dentro l'ufficio, gli agenti constatavano la presenza di una dozzina di giovani in piedi di varie nazionalità, disposti a ferro di cavallo con fare minaccioso e al centro di essi l'assistente sociale a cui veniva impedito di uscire, altri tre ragazzi posizionati davanti una finestra di vedetta verso l'esterno. L'assistente sociale, in evidente stato di agitazione, una volta liberata dai poliziotti, spiegava loro che la protesta degli immigrati era scaturita, mentre la stessa si accingeva a distribuire loro i pocket money settimanali del valore di 14 euro ciascuno. In particolare, gli stranieri pretendevano anche la liquidazione dei pocket money della settimana precedente non ancora distribuiti per non meglio precisate procedure contabili. L'assistente sociale cercava di spiegare ai ragazzi che la comunità non era in possesso dei pocket money della settimana precedente e che gli stessi sarebbero stati distribuiti una volta acquisiti. Ciò scatterava la protesta degli ospiti della struttura, che radonatesi tutti all'interno della stanza impedivano alla donna di uscire e agli altri operatori ad entrare, impossessandosi inoltre dei telecomandi del cancello della struttura. Per tale motivo, gli agenti procedevano a condurre tutti gli stranieri resisi autori del reato di sequestro di persone di estorsione presso gli uffici della questura Nissena, dove, dopo gli adempimenti di rito, venivano tratti in arresto. Gli stessi, tutti i richiedenti protezione internazionale, venivano identificati per sette gambiani di età compresa tra i 15 e i 17 anni, due egiziani di 16 e i 17 anni e un guineano di 16 anni. Su disposizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i milioni di Caltanissetta, quattro erano collocati presso l'Istituto Penale minorile del capologo Nisseno, quattro in quello di Catania, due in quello di Palermo. Ai fatti reato di cui sopra partecipavano anche tre stranieri maggiorenzi, un diciottenne di nazionalità gambiana, un diciottenne pakistano e un coetaneo burkinabè, anche essi richiedenti protezione internazionale, tutti denunciati in stato di libertà alla procura Nissena ordinaria per i reati di sequestro di persona ed estorsione.